La Via Reggio, che dice no all'asse di penetrazione, si mobilita e lancia una manifestazione in strada questo sabato pomeriggio. Un presidio alle 15.30 davanti al municipio e poi un corteo fino alla palazzina di Via Indipendenza, il condominio dove vivono nove famiglie, che dovrà essere abbattuto per lasciare passare la Via del Mare. Il coordinamento Noasse, che raggruppa ambientalisti, residenti e altri movimenti, cinque mesi dopo la presentazione del progetto da parte dell'amministrazione comunale, ribadisce il no a quel tracciato a sud dello stadio dei Pini, attraverso la pinetta di Levante, approvato dal Consiglio Comunale. Noi diciamo no a come un po' è stata impostata la questione, senza una vera partecipazione dei cittadini, e diciamo no al tracciato che è stato presentato a suo tempo dal sindaco. I tracciati all'epoca furono sei e quello che viene proposto è quello a più elevato impatto ambientale. La nostra soluzione la chiediamo ai cittadini, da qui la mobilitazione, interessarsi, entrare nella gestione del Paese e farsi parte attiva, perché Via Reggio è di tutti noi. Nei mesi scorsi oltre 2.300 firme erano state raccolte dal coordinamento per chiedere alla Regione Toscana l'avvio di un percorso partecipativo per la Via del Mare, ma per difetti di forma nella presentazione della domanda si dovrà ripartire da capo. Pochi giorni fa il sindaco Giorgio De Ghingaro, a margine della presentazione del regolamento urbanistico, che al momento non prevede la Via del Mare, è tornato a difendere l'utilità del nuovo asse. Un'opera, ha detto, che porteremo avanti forti dell'appoggio di larga parte della città.